Buonasera a tutti, benvenuti a questo terzo webinar con Banco Posta e accanto a me un ospite, l'altra volta ero da solo, questa volta per fortuna mi ha aiuto qualcun altro, così saremo più gravi di essere più precisi in alcune cose. Ebbene, questa sera ci occupiamo di ETF, non spaventatevi se non avete mai sentito questa parola perché dedicheremo ben 60 minuti a capirla meglio. Stanno già arrivando delle domande e devo dire che sono domande di gente che il ETF riconosce già, perché se no queste domande non ce le farebbe ad esempio sulla fiscalità degli ETF, sulla compensazione, cosa succede se hai due conti e cose del genere. Risponderemo a tutti, se poi non ce la facciamo mi scriveremo a casa, il punto è che dobbiamo partire proprio, come dire no, a raccontarla semplice per tutti. E allora, cominciamo a dire questo, gli ETF, poi vi spieghiamo meglio cosa sono, come si selezionano, perché a senso di inserirmi un portafoglio e cose del genere, danno la possibilità di diversificare in modo esagerato, straordinario, cioè voi potete comprarvi mille titoli azionari in un solo ETF, mille titoli obbligazionali in un solo ETF, potete addirittura comprarne migliaia. Saluto però intanto il dottor Emanuele Belingeri, grazie per essere venuto qui, responsabile per l'Italia di FiveShares. Allora, dicevo, si possono comprare fino a mille titoli, eccetera, ma intanto l'abbiamo invitata perché ci racconta che mestiere fa la sua società, che guarda caso e mette un sacco di ETF. Quindi cosa fa Eichers? La prima cosa sono gli ultimi ascoltatori e mi ringrazio per aver permesso di essere qui questa sera a parlare di ieri. Sono qui in qualità di responsabile italiano di Eichers, che è la piattaforma di ETF del gruppo BlackRock. BlackRock è una società che si occupa della gestione degli investimenti per conto terzi, quindi del denaro che i propri clienti affidano. All'interno di BlackRock è una società anche più grande a livello di masse vestite, a livello mondiale, con oltre 4 miliardi, 4 mila miliardi di... Due volte il prodotto in Italia? Esatto, è anche difficile, no, di parlare di questione. All'interno di queste masse ci sono anche il denaro, l'ETF, che è di mille miliardi di investimenti a livello mondiale. Quindi potremmo dire a BlackRock di prestarci tutto per farmi finanziare il denaro dell'investitore. Se l'investitore sono d'accordo... e ne parliamo nella stessa domanda. Quindi, d'accordo, tra l'altro una piccola nota, proprio nei giorni scorsi si leggeva che BlackRock ha comprato di qua e di là 1,5 della vostra italiana. Giusto una piccola curiosità. Veniamo al tema degli ETF. In Italia quindi c'è una istituzione che ha risciato a non solo, insomma, ci sono molte ETF da comprare, giusto? Avete un segmento abbastanza forte. Sì, in Italia siamo lì, abbiamo il 54% delle quote di mercato come massi vestite, il mercato di ETF nella sua totalità sta crescendo a tassi molto importanti e è ancora un mercato piccolo, si è confrontato con quello di rampio del risparmio gestito e comunque di fondi comuni. Allora, detto questo, dobbiamo però, a questo punto, a chi dice se me non ho ancora capito cosa sono gli ETF, allora adesso ve lo diciamo partendo con una slide che Belligeri mi aiuterà a commentare. Eccola qua. Io vi ringrazio Andrea, Paolo, Antonio per le domande che stanno arrivando. Poi vi rispondiamo, naturalmente potete già cominciare a farmi conoscere gli ETF, andiamo dopo. Ecco qua. Allora, gli ETF sono strumenti finanziari quotati, emessi da società di gestione o banche, piccolo controcanto, cioè sono strumenti quotati. Quindi? Sì, come le azioni sono quotate in borsa, quindi possono essere acquistate e vendute, come si dice già nel 90, quindi durante la fase di alberatore della borsa, anche gli ETF non sono quotati, quindi sono banieri di titoli, di basket di titoli, quotati in borsa, quindi possono essere acquistati e venduti durante la fase di alberatore. Facilmente, ad esempio con la piattaforma Banco Posta, ancora, possono investire in obbligazioni azioni di mercato monetario in materie prime, in quanto gli ETF, e questo è un punto decisivo, replicano, ricordatevi questa parola, replicano, in particolare gli indici o banieri di borsa, i cosiddetti benchmark, cioè lo del Belenieri? Benchmark sono gli indici di riferimento, sono i mercati in cui investono i ETF. Per semplificare, pensiamo alla fine della giornata, quando nel giornale vediamo che l'indice Dow Jones della Borsa è cresciuta del 2% o è scesa del 2%, l'indice funzionale in Italia, la tax in Germania, ecco questi sono i benchmark, quindi sono i mercati su cui si investe, possono essere azionali, possono essere obbligazioni, quindi su di loro basso i titoli, per esempio, per un mercato della socialità. Cosa significa che l'obiettivo di qualsiasi ETF è generare una performance, un rendimento uguale, molto simile a quello del benchmark, cioè a quella cosa, al suo indice di riferimento. La capacità del gestore del ETF, quindi chi in selezione gestisce questi titoli, sta proprio nel ottenere un rendimento pari a quello dei mercati stessi, quindi per tornare ad esempio di prima, il Dow Jones è cresciuto il 2%, mi aspetto che il mio ETF sul Dow Jones salga esattamente il 2%, per quello di più, non voglio battere il mercato, voglio prendere l'esposizione su un particolare mercato. Ecco, questo di battere o meno il mercato ci torneremo perché poi è decisiva, cioè con gli ETF non aspettatevi di fare come magari con un gestore il 1000% in più del suo indice, state sempre lì, per cui avete la certezza di non fare di più, ma neanche di meno, che può essere importante perché a volte i gestori non sempre ci pigliano in pieno, diciamo così. Allora, ci sono due strade per costruire questi indici, e cioè la replica fisica o quella sintetica, in due parole, come significa? per applicare questi mercati posso costruire i titoli che fanno parte di questo paniere, come questo indice di quelli calcolati, di cui le calcolate la performance, oppure lo posso fare diciamo in maniera sintetica, utilizzare altri strumenti all'interno del portafoglio, però sempre con l'obiettivo di consegnare a chi investe il rendimento del mercato sul mercato emergente, ci chiede consigli, allora noi qua non possiamo fare ovviamente consulenza, semmai però che si può fare più tardi e dire guarda esistono questi prodotti, ma insomma di sicuro non stanno tantomeno per ruolo istituzionale, quello che va bene in genere, poter dare consigli di investimento. Allora, abbiamo detto in modo semplice cosa sono gli ETF e come funzionano, a questo punto vi faccio una piccola nota storica, e cioè gli ETF sono nati vent'anni fa, quindi non sono nati ieri ma nemmeno tantissimo tempo fa. Nel 1990 è nato il primo simile ETF alla Borsa di Toronto, però il debutto ufficiale si fa risalire al 1993 quando, cioè, nacque il primo ETF sull'indice americano S&P 500. Immagino che lo avrete già sentito citare, S&P 500 è l'indice che mette insieme le 500 società più grandi, più capitalizzate, più liquide della Borsa americana, di Wall Street, quindi è un indice importante per alcuni, più importante al mondo. Ma adesso torniamo un attimo a quello che si diceva prima, e cioè, guardate un po' questo slide, questa slide relativa ai titoli del listino italiano, funzioni liberi, perché mi spiace che io quando mi è andato parecchio male. Allora, si vede un po' stretto, ma insomma vedete che si parte con la 2A, quella che è la gas, l'energia, l'incranesi, poi c'è l'Atlantia, quella dell'autostrada del sole, poi ci sono le varie società moda, vicino a te, l'energia, le banche, la moda, l'africano e via dicendo. Allora, per farvi capire esattamente l'usione di F, se non vi è ancora chiaro, farò una domanda un po' da deficiente, da tutto, che è sincero, e cioè, io credo che la Borsa italiana si riprenderà, voglio dare fiducia a questo Paese, eccetera, eccetera, allora domani mi prendo la mia bella terraforma di banco di posti e mi compro tutti i 40 titoli, quindi 40 operazioni e a quel punto in mano, tutto il listino. Le sembra una cosa sensata? Sicuramente è possibile, quindi tecnicamente lo posso fare. Via un modo molto più efficiente, io con una singola operazione, al posto di comprare 40 titoli, compro uno strumento, appunto le tiende, in questo caso l'esempio della Borsa funzionale, che mi permette appunto con una sola operazione di acquistare tutto il paniere, quindi tutti questi 40 titoli. Tra l'altro con il peso corretto, quindi l'endice, l'ambiente, le altre società peserà di più, così esattamente, diciamo, applicando il peso del lince stesso. Di nuovo, se domani sera l'indice ha fatto più un e mezzo per cento, ad esempio, mi aspetto che un ETF faccia più un e mezzo per cento. Io come vedo dalla slide, c'è appunto la possibilità di comprare i vari ETF, segnando quello che replica gli shares, esattamente il FUNSIMIP, quindi, in altre parole, lei ci ha detto una cosa che è importante, perché uno che si compra 40 titoli e dice che magari mette 1000 euro in ogni titolo, in realtà non ha il FUNSIMIP in mano, perché EDI pesa 10 volte di più di altri titoli, mentre invece l'ETF per principio deve arreticare esattamente, direi da un modo ragionalistico, ma se non c'è esattamente tutti quelli che sono anche i pesi, cosa che un privato sinceramente farebbe fatica a fare. Qual è il grande vantaggio? Che se uno si compra EDI, può essere che va bene, può essere che va male. Se si compra Unicredit, può essere che va bene, può essere che va male, naturalmente se ti compri tutto, in qualche modo andrai sempre a compensare quello che può andare meglio con quello che può andare peggio. Quindi stai a benchmark, come si dice. Senta, ma vi abbiamo fatto appunto la domanda un po' da semplice semplice per capire. Ovviamente non si può comprare solo quell'indice, solamente l'indice italiano, ma immagino, come si accennava anche prima, si possono comprare tantissimi indici, ad esempio i 500 titoli del S&P 500, DAX, la borsa inglese, che universo si può scoprire con gli ETF? Allora, su Borsa Italiana ci sono centinaia e centinaia di ETF che si votano, quindi diciamo la categoria dei fondi votati è circa 800, quindi non solo Isos ma anche gli altri emittenti. Quindi posso realmente investire sui mercati, lo posso fare anche scegliendo pagare l'imittente e sullo stesso mercato posso scegliere ad esempio in ETF che è la cumulazione, quindi con i dividenti che vengono investiti nel ETF stesso, oppure la distribuzione, quindi un po' dividendo pericamente, oppure con la cooperatura del calcio. Quindi anche sullo stesso indice abbiamo più opzioni, logicamente bisogna capire, prima che si trova l'investimento, capire bene quali sono le esigenze, qual è l'indice su cui deve guardare il rischio. Ecco, un limite che a volte commettono un errore, mi permetto di dire, a volte commettono i risparmiatori, tanto più il cosiddetto piccolo risparmiatore che non ha le masse di un gestore dell'istituzionale, eccetera, eccetera, è quello che magari si focalizzano su poche cose, no? Vogliamo citare un caso grammatico di questo paese, la Parma, ma quelli che abitavano vicino a Parma, chissà perché, erano piedi di azioni Parma, di divulgazioni Parma, perché? Perché mi sembrava che quel nome fosse fantastico e non potesse mai farli rendere, ci hanno dovuto scontare pesantemente questa speranza, convinzione. bene, allora, mi aiuti in questo senso, cioè, se uno può con mille euro comprarsi la borsa italiana più o meno tutta, tutta quella inglese, tutta quella americana, tutta quella indiana, tutta quella cinese, insomma, si ritrova a miliardi vendito in tasca, tutto sommato con un investimento molto contenuto. Da questo punto di vista l'ETF è veramente lo strumento, diciamo, principe per fare una diversificazione del genere, assolutamente, teniamo presente, diciamo, parola di mili euro, però la singola quota dell'ETF, poi dipende da l'ETF e l'ETF, ma costa anche meno, quindi diciamo che ci sono 100 euro, quindi con 100 euro posso prendere l'esposizione anche tra l'ETF e l'ETF su più di mili titoli. Qui è introduciato il concetto fondamentale che è quello della diversificazione, cioè è il concetto classico di non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Magari posso riduciare a una performance stratosferica di uno e un titolo, più, però, d'altro canto, se io ho mili titoli in un portafoglio e un'azienda, diciamo che ci sono anche G-ETF obbligazionale, un'azienda che va in default e non riesce più a pagare il debito, questa peserà molto poco sul mio portafoglio e quindi l'incidenza, non è aperta, sarà molto limitata. Se invece, d'altro canto, acquisto un prodotto, quindi una sola azienda, un'emissione, una sola azienda, invece il concetto è molto, molto più dell'alto. Allora, andiamo avanti ancora una volta, domande, devo dire, di persone che su G-ETF, no? Sanno già diverse cose, infatti dividendo, accumulazione, come no? Torniamo su tutte queste. Esageriamo. Si possono comprare tutti gli indici delle borse mondiali che hanno messo insieme. Esiste uno strumento che mi permette di investire su migliaia di titoli? Io lo so che esiste, una domanda retorica, insomma. Di cosa stiamo parlando? Beh, è una domanda retorica però, forse parlando di questi due strumenti, si capiscono meglio di potenzialità di questi G-ETF, perché abbiamo fatto un primo esempio sui 40 titoli della borsa italiana, dove è detto sia tecnicamente possibile farlo, invece farlo tra gli G-ETF. effettivamente devo fare 40 esperazioni, adesso magari per il rischio è arrivato, è un po' complicato, però si possono acquistare tranquillamente. Se invece allarghiamo un po' l'orizzonte, pensiamo ad esempio all'MSI World, quindi all'inizio azionario che investe sulle borse di tutto il mondo, la situazione è diversa, perché stiamo parlando di oltre 1.500 titoli su diversi paesi, su diversi listini, con valute diverse, e quindi capiamo bene che andare a comprare questi titoli solo per un discorso di apertura o chiusura della borsa, se io voglio fare l'operazione al mattino e la borsa americana è chiusa, perché apre quando poi è pomeriggio, non metto in tenere il possibile e devo con una rispettiva. Con le G-ETF, acquisto di nuovo con un colto solo, con un'operazione dedicata con oltre 1.500 titoli di tutto il mondo, quindi forse appunto le potenzialità emergono ancora di più, se parliamo di questi decisi molto ampi e non sono concentrati su un sicuro. C'è sempre, credo, un aspetto psicologico che l'ha sottolineato, cioè un po' andare a dormire pensando di avere messi soldi su un titolo, con il rischio che poi esce la notizia improvvisa, se non ti aspetto e lo vedi scendere. Altra cosa è che 6.500 titoli, 1, 2, 10 quel giorno rilasciano notizie brutte, insomma, come si chiama, è 1.490 che in personale rilasciano notizie belle. Quindi da questo punto di vista la diversificazione, ripeto, è anche uno strumento per mantenere un capitale psicologico che non va mai perduto. Allora sì, ci chiedono tra le altre cose, la differenza tra ETF e i fondi comuni di investimento, perché un po' qualcuno potrebbe un po' giustamente pensare che tenda ad assumirsi come strumento e certamente arriveremo a parlare anche di questo. Anzi, diciamo, ci arriviamo fra poco, mi interessava un'altra questione, così come abbiamo parlato di azioni, c'è la possibilità di comprarsi mille obbligazioni. l'esempio banale, uno dice compro la Grecia o compro la Germania? Con le due, tutte e due, questo già di per sé vi fa capire che vi prendete gli alti rendimenti della Grecia, ma vi proteggete con la Germania, ammesso il Presidente. Non sta benissimo però, insomma, sta sempre meglio di ciò che più gli altri. Quindi, sì, questo abito di innovazione del resto del ETF è ancora più evidente. Infatti le azioni sono tutte quotate, quindi comunque, anche se non era più complicato andare a comprare le singole azioni, posso farlo. Le obbligazioni presentano delle peculiarità diverse, innanzitutto non tutte sono quotate nel durante, mentre il il ETF è quotato e quindi esprime un prezzo, un valore in tempo reale. E poi ci sono anche dei lottini. Sappiamo che per comprare le obbligazioni societarie ci vuole dei lottini che sono anche decine di miliardi euro. In questo caso, di nuovo, tramite il ETF, ad esempio, sul corporate europeo, posso comprare oltre mille titoli di nuovo con un investimento minimo, oltre 100 euro. Ecco no, questa cosa è importante perché ci sono proprio titoli che vanno per definizione degli istituzionali, un taglio da 100 mila euro, ma di sotto 50 mila, ma spesso anche 100 mila euro. Ecco, un piccolo dettaglio, quando dice corporate, intende obbligazioni emessi da aziende, da aziende, da società, esatto, e non titoli di Stato. Potete comprarvi i titoli di Stato, le aziende, quelle americane, quelle europee, quelle emergenti. No, sappiamo che, ad esempio, mi incuriosiva, sapete che poi si parlava dei Bricchi, cioè i paesi Brasile, Russia e Cina, quelli che sembravano avere una crescita, viene arrestata. Poi erano gli emergenti. Poi sono arrivati fuori, se non parlo, gli 11... Next 11, next 11, cioè i prossimi undici che diventeranno. E lei è andata a scoprire che c'è l'anicea, appunto, perché, non so, in paesi delle soli. Sì, vediamo anche delle domande, no? Una domanda, soprattutto, chiedeva se è possibile contrarre, ad esempio, sul fuzzi dei singoli settori, cioè una parte del disegno. Se è possibile, nel senso che non sono proprio appontati tutti gli ETF settoriali su tutti i mercati, su tutte le aree geografiche, però continuamente vengono lanciati gli ETF e quindi, ad esempio, se non c'è l'europeo, posso concentrarvi solo sui titoli bancari, oppure solo sui titoli industriali. Gli auditivi. Gli auditivi, oppure posso andare a gestire su un singolo paese, diciamo, tra i paesi emergenti break, penso che la correlazione e l'andamento di questi paesi non sia più, sia cambiata rispetto a prima. Più può avere altre situazioni di impact economiche positive, l'altro meno. Posso essere guidato l'andamento di questi mercati da situazioni diverse. Posso andare a selezionare l'India, posso andare a selezionare la Cina. Lo posso fare in modo molto puntuale, poi posso anche andare a investire su temi di investimento, quindi aziende che si occupano di acqua, aziende che si occupano di real estate, di infrastrutture. Quindi posso spacchettare i mercati in singoli temi e questo è quello che sarebbe. Torniamo al discorso di prima, cioè che si possono fare investimenti straordinariamente diversificati con investimenti contenuti. Se posso chiusare, visto che io non ho i vincoli della policy, chiamiamola così, come giornalista sono più libero, però se posso chiusare questo nostro partecipante. Allora, lei ha chiesto, io purtroppo non ho altri corsori, mi sarebbe piaciuto chiamarlo per noi, ma in questo momento non lo avete. Allora, questa persona che ha chiesto, posso comprarmi del Fuzzinib italiano, cioè delle 40 aziende più grosse e capitalizzate in grossa italiana, solo le banche? Questa è la domanda. Allora, ripeto, da giornalista mi permetto di chiusare. Ah, il listino italiano, il Fuzzinib è già sovrappondante di banche, a differenza ad esempio del listino tedesco che ha molti più industriali, ma non solo. Forse, mi permetto, se uno pensa che le banche abbiano da recuperare assai, beh, ci sono anche gli ETF sulle banche europee. Esattamente. Quindi uno diceva, perché andate a comprare solo i crediti d'intesa, che sono i due grandi corsi che ho da un po' di stima? All'altro è l'orizzontale europeo. E aggiungo, siccome tra poco ci saranno, no, la BCE, la banche europea, rilascerà, come dire, i risultati degli esami sulle banche europee, se posso, per l'unico. Magari aspettare quel paio di settimane, ecco, probabilmente, mi sbaglio di sicuro, ma aspettare un paio di settimane e vedere se le banche europee sono messe bene, non sono riuscite a fallimento. Non credo sia un consiglio da accettare. Certo. No, qui stiamo dicendo che cosa vuole comprare, ma se mai quando. Allora, rischio e come le azioni non sono tutelate come per i fondi comuni, e così entriamo sul discorso dei fondi comuni, ci lo chiede Paolo. Sì, questo è, diciamo, un aspetto interessante. Gli ETF, quindi l'acronimo ETF, che significa Exchange Traded Fund, quindi sono fondi quotati in borsa. Sono gli OICR, che è l'organismo di investimento collettivo del risparmio, sono dei fondi. Come per i fondi il patrimonio è segregato rispetto a quello dell'intente e quindi, in caso di fallimento dell'intente, il patrimonio non viene intaccato perché è segregato esattamente come dei fondi. Finora abbiamo parlato degli ETF come strumenti quotati, quindi, paragonando le costante molte azioni, una componente molto importante per l'atteristica che è quella di essere fondi comuni. Naturalmente hanno anche delle differenze, poi, che accenneranno dal punto di vista del rendimento potenziale. Ma, più che del rendimento potenziale, dell'obiettivo. Qual è la grossa differenza tra un foglio comune e un ETF? L'obiettivo del gestore del fondo comune è fare meglio del mercato. Cosa significa? Che se, ritornando ad esempio iniziale, l'indice americano oggi perde il 3%, ad esempio, il gestore del fondo comune si impegna per ottenere una performance migliore del 3%, quindi per avere, diciamo, il 2% l'uno, magari per fare il positivo. Quindi questo è l'obiettivo. Non sempre ce ne riesce, naturalmente, c'è un aspetto grande, quindi qualche volta si fa meglio, qualche volta si fa uguale, qualche volta si fa uguale. L'obiettivo del ETF è quello di replicare il mercato. Quindi poi bisognerà capire quali sono i gestori più bravi che riescono a battere costantemente il benchmark e quali no, perché sicuramente non tutti lo fanno costantemente. quali sono, diciamo, i dati, posso dire, i dati non sono enormemente a favore del risparmio gestito. All'incirca l'80% dei gestori non batte il cosiddetto benchmark, questi sono dati storici. il che vuol dire che quando voi andate da un gestore avete il 20% di probabilità di fare il medio di un ETF e l'80% di non farlo. Questo, ripeto, è pura statistica. Ciò non significa che dovete per questo rinunciare a una dimensione di consulenza, perché un conto è dire, magari non trovo il gestore giusto, altra cosa è pensare di pasticciare da soli, ma questo lo vedremo. Allora, qui ci buttano in tanti sulla questione. Conviene comprare un ETF da accumulazione o che da dividendi? Credo che sia una scelta. È una scelta, è una scelta del simbolo. Allora, l'ETF a distribuzione dei dividendi permette di ottenere una montagna di un'altra praticamente. Quindi se si investe una cifra, magari anche consideratevole, si sa che ogni tre, ogni sei mesi si ottiene, quindi sul conto corrente avremo, riceveremo quantità di denaro, che può essere in gioco, due, tre, quattro, in base al rendimento dei dividendi. Altrimenti, poi nella curazione, i dividendi che vengono staccati con l'eccedo delle obbligazioni, vengono rivestite nel materiale stesso. Quindi non ci sarà un accredito periodico, ma andrà a accumularsi il capitale investito e quindi se ne verrà investiti con l'intero montare, che è vero che è stato lì, se vuole eventuali, cioè, guadagni del capitale. Quindi dipende se si trova bisogno di tornare in dettaglio erodica, oppure no. Allora, continuiamo con delle domande, e qui devo chiamare in causa, no, degli ingeri, ma probabilmente lo invito anche a bere, quindi tanto ciò che serve, la gola. Allora, molte domande sul tema delicato della tassazione, e delle con varie convenienze fiscali. Allora, la prima cosa semplice, semplice che diciamo è come viene tassato un ETF? Faccio magari un'altra messa. La tassazione degli ETF è cambiata nel giugno di quest'anno e quindi alcuni ascoltatori magari hanno in mente una tassazione che si è passata che effettivamente era un po' complicata. non era penalizzante rispetto a questo momento, però la semplice non è più complicata. Allora, come funziona Taduglio, diciamo di quest'anno un po', quindi cosa funziona adesso? Abbiamo detto che gli ETF sono i fondi, quindi gli OCR, e quindi vengono tassati con l'OCR. Cioè, eventuali differenze positive con il capitale, quindi la prezzo di vendita dell'ETF e il prezzo di acquisto viene tassato alla liquida del 26%. A meno che si tratti di obbligazioni governative nel corretto white list, quindi soprattutto per esempio, che vengono tassate al 12,5%. Quindi 26%. Se io ho un momento positivo, mi va a trovare il capitale, e quindi come un fondo e a differente relazione, non posso compensare le eventuali minusvalenze se il prodotto, ad esempio, dalla vendita di titoli. Prendiamo un titolo a caso, o questo ad esempio, prendiamo E, ho avuto E, ho avuto E, ho avuto in perdita, ho una minusvalenza, con l'ETF che è positivo, non posso compensare così. Se invece vendo l'ETF in perdita, quindi il prezzo di vendita sarà il fiore o la prezzo di acquisto, questo genererà un reddito diverso, quindi i redditi diversi, e in questo caso la minusvalenza può essere compensata ad esempio. Quindi, ricapitomando, l'avete capito, 26% se ricomprate un ETF azionale, 12,5% se ricomprate un ETF che ha dentro proprio i titoli degli stati italiani, che sarà proprio per noto, hanno una ricopare aereo, aereo, aereo white list, che è lunga, per cui semmai, poi dovete un po' cercarvela, non si compensano le minus-sinfone plus tra azioni e l'ETF, a meno che l'ETF, non meno l'ETF, che è in verde, per cui ho una minusvalenza derivante dal mio ETF, e se compensano l'interno di questo. di nuovo se vuoi dire più. D'accordo, allora vediamo ancora altre domande, parlerete anche della tassazione del BTF, posso chiedere per favore, sono un investitore alle prime armi, Lorenzo possiamo anche dirlo, come posso orientarmi nella marea di BTF presenti sulla piattaforma banca posta e capire qual è il più conveniente. Dunque, qui siamo a una domanda che non è di consulenza, ma è di metodo di approccio. Cosa possiamo dire? Come si fa in qualche modo a discernere tra tutti gli BTF? Cosa non può fare? Intanto selezioniamo. Allora, il merito in questo caso di Lorenzo è quello di essersi collegato a questa sfera, quindi di cercare di aumentare le proprie conoscenze di ambizia. In generale, se non si hanno delle conoscenze elevate degli strumenti di investimento nella casa finanziaria, il consiglio è sempre quello della massima cautela. Quindi è evitare che prendere il propris. Questo è un consiglio che mi sento di dare, non è consulenza, però mi sento di dare. Per coloro che conoscono i mercati finanziari, quindi con la cultura finanziaria delle banche, che vogliono investire da soli, le indicazioni di consiglio sono quelle, innanzitutto, di capire in base a con un profilo di esperimenti, quali sono i mercati su cui si vuole investire, andare a individuare il giusto benchmark, il giusto indice e poi questo si può fare sul sito post online oppure sul sito nostri shares.it, andare a vedere le caratteristiche stesse dell'ETF, quindi un momento in cui si investe, la diversificazione, chi è l'emittente, quindi se è un emittente affidabile che ha dimostrato il tempo di sapere investire bene l'ETF, valutare i costi e valutare l'emittente affidabile, spesso qui nel momento in cui si andrà a verificare il prezzo denaro e il prezzo debito, quindi la differenza, cercare di concentrarsi su ETF che presentano come elevati di vita, come elevati anche volumi, in questo caso a pariare l'ETF, andare sui strumenti di utilizzare. Allora, se posso qui anche io dire qualcosa, e cioè, la prima cosa da non fare è quella di rischiare, se non si capisce un po' con cosa si ha a che fare. Io credo che il primo consiglio utile da dare a questo partecipante del seguente non buttarsi sulle obbligazioni, ma possano anche ETF, ben diversificati, eccetera, se in qualche modo non si è disposti a sopportare il rischio che magari un mese dopo trovi un 10%, perché le borse, come è noto, sono molto più volatili delle obbligazioni, anche se le obbligazioni ai 20 anni, la volatilità a wallet, non sono seconda a nessuno. Quindi il primo consiglio è guardare al mondo pubblicazionario, evitare di andare subito su valute strane. Dici, no, ma perché mi hanno detto che la Turchia rende molto? Eh, ma non è un caso che rende molto. No, poi potrebbe diventare nulla contro i turchi o il governo turco, ma non so, non è un caso perché l'Argentina vendeva così tanti sogni, infatti poi è anche l'editura fallibile. Quindi, attenzione a non diventare abidi, ragionare un passo per volta, cominciare magari a studiare un po' di più sugli ETF, tra l'altro mi risulta che ci sia una guida di ETF. Assolutamente, che è scaricabile, quindi sul sito di post online, può essere sicuramente un primo passo per capire meglio di più di questi strumenti. Certo, ogni modo, insomma, diciamo semplicemente, un ETF che mi permette di investire in tante obbligazioni europee, quindi in un colore rischio cambio, non è difficile trovare, magari un pezzettino all'inizio, forse pure il 10%, i 100.000 euro, che ce l'ha un prima, uno può anche avere il coraggio di andare sulle azioni, tenete presente che non è un caso che la borsa italiana sia andata male in questi anni, in quella tedesca bene, in quella americana bene, eccetera. Questo non significa che poi chissà cosa succederà tra tre anni, nessuno prevede il futuro, però in qualche modo evitate di concentrarvi su un solo mercato, forse anche quello italiano che vi ispira di più. Adesso vi dico una cosa che può sembrare assurda, ma non lo è. Qual è il mercato che ha fatto più 100% negli ultimi mesi? La borsa di Kiev, cioè mentre siamo che a dire che forse c'è la terza guerra mondiale, no? Perché c'è l'Ucraina in crazy, la Russia di qua, l'America di là in mezzo, eccetera, eccetera, la borsa di Kiev, una volta che si è andata non stabilizzata la situazione, no? Era crollata e poi è partita al galoppo a fronte magari di altre borse che invece proprio in questi giorni, in questi giorni sono tornate a rendimento zero. Da inizio anno, ma è un bel, un bel, insomma, aveva fatto più 20, più 30, adesso sei immaginata tutta. Ma però questo non è detto che, voglio dire, l'ETF sulla borsa italiana che distribuisce dividendi, non faccio nomi perché, o ad accumulazione, insomma, credo che sia intorno al 3%, considerando che il rendimento da dividendo, più o meno, siamo in quella zona, per cui anche se uno poi alla fine dell'anno ha detto, vai, è partita bene e è tornata a zero, però, insomma, comunque mi vediamo il 3% da scaccato, che in questi tempi, no? Non sono neanche pochissimi, visto che il titolo decennale italiano rende il suo ex 37 lordo, quindi, insomma, siamo comunque ad ex, va bene. Allora, continuiamo con le domande. I rendimenti vanno dichiarati nella dichiarazione dei redditi? No, per tutto, per tutto, per tutto davanti, per tutto andando i prodotti, insomma, quello che è. Ma questo è interessante che Fabio mi chiede se ha senso tradarli nel breve termine. Questa è una domanda che mi sta particolarmente a cuore, perché gli ETF, almeno inizialmente in Italia sono stati percepiti come strumenti da trading, di modo, a un modo di vedere, errato, nel senso che sicuramente possono essere utilizzati nel breve termine, però non sono gli strumenti ideali per compiere un'attività di ebitrading, quindi di acquisto e venta di centinaia, ma di operazione al giorno, perché presentano dei costi, quindi non solo in questa situazione, ma anche nella spread, che ne fanno gli strumenti ideali, forse deve puntare sull'azione, magari anche se l'azione di per sé è più rischiosa, quindi non è diversificata, però se vuoi compiere delle operazioni di un giornato, magari è meglio fare un'azione. Gli ETF sono strumenti di risparmio di medio e lungo periodo, quindi con i fondi, però hanno un vantaggio che, essendo il contratto in borsa, possono diventare immediatamente uno strumento di trading, cioè esce una notizia su un indice, esce un dato, una notizia negativa che va a impattare sul mercato, io con un click in tempo reale posso disinvestire, mentre con altri strumenti lo devo fare magari a fine giornata, se va bene, su prezzi non c'è, con l'ETF posso farlo indirettamente, quindi diciamo è una tool in più che io ho nel momento in cui voglio pure, voglio prendere la posizione sul mercato e lo faccio, lo faccio alle 4 del pomeriggio perché è la voce a terra, lo faccio al mattino alle 9, lo faccio quello vuole, però ecco non sono strumenti da trading come erroneamente, se non ti piace qui all'inizio in Italia, è solo anche strumenti da trading. Diciamo che ci sono degli svantaggi nel momento in cui uno pensa di comprarlo, non attivamente avrò la sera, poi invece ci può essere chi, io mi permetto di dirlo, magari li compra a inizio mese e invece lo faccio che dopo, magari riesce a fare quel 5%, però è perché le cose vanno molto bene, allora te lo compri certamente, sono strumenti da, chiamiamolo un po' da cassettista, per dirlo a un certo certo, importantissimo è che se uno vende un ETF al mattino, dopo 10 secondi, 3 secondi, quello che ha i suoi soldi liquidi, giusto? Allora, se uno vende un fondo, a parte che è un po' più farraginoso, non devi cercare dirlo, se lo diciamo attiva una cosa, se lo diciamo attiva una cosa, se lo diciamo attiva un altro prezzo, cose del genere, ma soprattutto può essere di quei soldi che devi avere uno, due mesi dopo, questi sono diversi. Non essere onesti, spesso la cosa migliore è come provare una vita per un buon gestore, ma diciamo anche che sono proprio logiche completamente. E mi riallaccio a un'altra domanda di Paolo che chiede, un investitore non esperto può quindi rischiare molto se non c'è una gestione attiva? No, nel senso che il rischio è stesso. Il rischio è proporzionale al mercato su cui vado a investire. Se io investo appunto su un vestito italiano, lo faccio tra gli PTF e una performance pare a quelle delle vestiti italiane. Se io invece investo in Italia tramite un fondo comune, il mercato del chiarimento sarà quello. Quindi se tutti i titoli quel giorno scendono e la performance negativa, il mio gestore otterrà una performance negativa. magari farà un po' meglio. Oppure potrà anche fare un po' peggio, perché è sovrappeso alcune azioni che magari sono scese di più. Qui non è che va, no? Purtroppo non ci sono i maghi che... Certo, il mercato scendono e riescono a stare fuori da... Il rischio è il rischio dei mercati in cui si avessi apriti, quindi si sa molto bene i mercati in cui si vengono insieme. Allora, potremmo andare avanti le domande fino alle 8, tranquilli, perché fra 16 minuti ci dobbiamo lasciare, però magari ci rivedremo tante volte, non lo so. Allora, è molto interessante questa domanda, cioè i costi, no? Allora, noi sappiamo che se io compro un fondo di investimento, se è un obbligazionario magari pagano un anno, se è un obbligazionario emergente, magari pagano più di più, se è un azionario non difficilmente, anzi facilmente arriva a due. Quanto è che può costare invece brutalmente, no? A spagna, non so, appunto, comprarsi tutta la borsa italiana, comprarsi tutta la borsa americana intesa come il finanziario di 500. Allora, mediamente i costi di dietro sono inferiore a quelli dei fondi comuni, diciamo, date la mano, anche molti inferiori. Molto, sì, 5 o 6 volte di meno. Anche molti inferiori, e questo proprio per la ragione che dicevo prima, se il mio gestore ha l'obiettivo di fare meglio, il mio gestore andrà, 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 andrà a valutare, andrà a valutare le aziende, andrà a valutare il paese, andrà a valutare le situazioni macroeconomiche. Invece, se l'obiettivo è poi di farlo con il mercato, semplicemente bisogna avere un gestore bravo a replicare il Venezuela, e quindi i costi sono per forza. Sì, resta il fatto che se io ho un costo dello 0,3 anno, che l'ottengo 5 anni, avrò un 1,5, cumulato 5 anni. Se io ho un gestore al 2%, diventa 10. Per cui poi bisogna vedere quel 7% che non ho preso, che ho speso in più, in qualche modo mi torna per un'abilità del gestore che magari invece è riuscito a fare più 70, per carità. Allora, c'è un'altra questione. Abbiamo parlato di costi, perché c'è una domanda che riguarda il banco posta. Quali sono i costi su 3 anni di banco posta, la promozione del 1,1,2 riguarda tutte le spese e commissioni compensi per il intermediabile, eccetera, eccetera. È una domanda che io purtroppo, lo ammetto, mi dite, non so rispondere, però sicuramente vi farò rispondere dalle persone che peraltro ci hanno invitato qui a tenere questo webinar. So che a un certo punto c'è un sito di iniziativa zero fee, però non so, certamente, si tratta dell'iniziativa della partnership tra posti italiani e iShares, quindi coloro che acquistano, credo che un investimento minimo di 1.000 euro, quindi fino a 3.11, poi probabilmente la partnership continuerà, questo, diciamo, lo dovremmo insieme, quindi non pagheranno la commissione di negoziazione, quindi la commissione, diciamo, dell'intermediario. Quindi acquistano senza... è gratis, è gratis, e quindi andranno a prendere l'esposizione su questo mercato, avranno un costo di gestione, questo è un costo dell'ETF, che è un'altra cosa, perché diciamo è molto basso, quindi, diciamo, si fa in modo di permettere al investitore di prendere l'esposizione sui mercati al miglior costo possibile. Quindi se io investo 1.000 euro fino a a Capodanno, diciamo, i 5, 10, massimo 18 euro che potrei pagare per aver comprato, non mi vengono problemi. Poi naturalmente chiederò io, perché sono puntiglioso, se anche quando lo vengo, mi trovo in bicicletta, succede la stessa cosa o meno. Sono in attività. Per me, giustamente, l'ETF non è da comprare, può vendere ogni mattina che ci si sveglia. Allora, ancora una domanda. Finalmente, sì. Allora, dei costi li abbiamo, ha senso tradarli, li abbiamo, sono più rischioli. Ecco, sono più rischioli. L'abbiamo detto prima, ci possono essere l'ETF fisici in cui l'emittente si compra tutti i titoli, e ci sono. Oppure c'è tutto un meccanismo che si può fare in modo sintetico, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno si dice, ma sono più rischiosi i fisici? O in sintetico? Allora, io ho la mia idea, che ti tengo, non ne spreco perché naturalmente sono di parte. C'è stato un ampio dibattito sul processamento di investimento di investimento. Diciamo che il mercato della soluzionalità, quindi principalmente, infatti, gli investitori e gli istituzionali ha dato una risposta, perché se guardiamo la ricerca del mercato che l'idea mondiale, europeo, italiano, il 54% del mercato, gestisce tramite la replica fisica, negli Stati Uniti, quindi a livello mondiale, il numero 2, il numero 3, quindi insieme dei primi 3 che hanno una quota intorno al 70%, anche il maggiore per cento, replicano tutto tramite la replica fisica. Se il mercato ha dato questa risposta, io la mia idea ha, poi va valutato in base del rivestimento, però qualcosa è da guardare. Diciamo che in generale non pensiamo all'ITF come un investimento rispioso nel senso del base di un paio di radiazioni, se no quello di rischio sui mercati, perché di nuovo patrimonio è segregato, quindi in entrambi i casi, anche quando si gestisce tramite la replica sintetica, il patrimonio è segregato rispetto a quello dei rivestimenti. Così come viene. Quindi non è che, per dirla un po' in soldoni, in strada di parla, non è che uno prende dai soldi, non appellinge le persone, e dice, poi scappa con la cassa, non potete scappare. C'è la parte depositaria, vengono depositati, quindi il suo conto segregato, vengono depositati dei rivestimenti, in quale sia in un caso che nell'altro. Ecco, ma a proposito di acquisto fisico, che in qualche modo è più impegnativo per l'acquisto sintetico, perché con i derivati se ne fanno un po' di cura, riuscite ad acquistare quindi anche centinaia di rivestimenti, fisicamente? Sì, e in questo caso è utile considerare se si attua una, diciamo, una replica completa, che significa, ci sono mille titoli e l'indice, io vado fisicamente con mille titoli, oppure una replica parziale, ovviamente, nel senso che, laddove si avvicini ai mercati con, ad esempio, 1.500 o 2.000 sottostanti, il gestore, magari, preferisce di dare il costo di negoziazione, messo i singoli titoli che avrebbero, sul costo del fondo, ne prende un campione, che non è totalmente molto elevato, questo magari fa 800, 1.000, che ha il servizio di servizio di servizio di servizio di servizio, per applicare fedelmente l'andamento del negozio stesso, magari a comprare un titolo di peso, 0.000, 0.1%, sono anche i costi, poi, del beneficio che ha intervento fuori. Allora, ci chiede Francesco, è possibile investire automaticamente, ogni mese, una parte dello stipendio con commissioni vantaggiose. Qui entriamo un po' nel tema dei PAC, che è un po' diverso, però... Le commissioni vantaggiose... PAC che cambia alcuno, non è PAC. Allora, le commissioni vantaggiose, per qualcuno con uno stipendio molto molto elevato, quindi con investire 1.000 euro al mese, sì, sono le commissioni vantaggiose che siamo freni sul robot, quindi commissioni zero, però ci vogliono degli stipendi che... In qualche modo ci hanno detto che a gennaio continua questa cosa. esatto, pochi anni. Almeno una notizia l'abbiamo, quindi pochi anni. Devo investire, io posso investire in una singola operazione, lo posso fare, il primo o il primo giorno del mese, posso investire, la posso fare diventamente. Va bene, quindi... Però poi c'è una logica un po' diversa che secondo me va approfondita, cioè... Una persona che ha uno stipendio, quindi ragionalmente è un dipendente, che si pone il problema di risparmiare, quindi mi riesce a non spendere tutto, altri non arrivano a 3 mesi e lui ci arriva e mette una parte e dice giustamente mi conviene investire un po' per volta, no? Allora ci sono i piani di accumulo, ci sono società di gestione che ti fanno un piano di accumulo e ti dicono tu dai a me 100€ al mese, 1000€ al mese e poi io ti li metto all'interno di un pacchettino che fra vent'anni avrai una pensione di yogurt e che ti sei fatta questa gamba. Oppure uno se lo può fare da solo, nel senso che basta essere rigorosi e cioè mettersi quel tot lì. C'è un vantaggio a farlo, è uno svantaggio possibile, e cioè se voi investite pezzettini in azioni, mi raccomando, non è che a gennaio comprate l'Italia, a febbraio la faccia, a marzo la Germania, poi l'India, poi il rischio è che sbagliate il timing e vi trovate sotto la Germania, sotto la... Allora uno dice, magari la vuttoria e poi uno faccia tutto quello che gli pare, uno si compra proprio quel bel indice mondiale che viene a 1500 dentro, mese, mese, cosa succede? Succede che se un mese fa 5, poi meno 3, poi più 10, poi meno 8, eccetera, eccetera, come ne fanno un po' le borse, voi comunque sarete in acquisto su una sorta di linea mediana. E se è vero, e a volte quasi sempre è vero, diciamola così, che nel lungo periodo le borse crescono sempre, in qualche modo vi garantite che il patrimonio vostro personale salga. attenzione perché potremmo ricominciare a parlare di un'ora di questo tema. Ma è vero, non è vero che le borse nel lungo periodo salgono sempre, perché se per lungo periodo si intendono 10 anni è falso, se si intendono 40 o 50 è magicamente vero. Ma vi posso citare la borsa italiana, la borsa giapponese, non è vero. La borsa giapponese dall'89 è giunta al 50% ed è arrivata almeno 80. Quella italiana è un po' come i sassomigliari, per cui non fatevi illudere da chi vi dice mettete in borsa per un lungo periodo, ora avete 30 anni, scusa, scusi dottore questa prolissa, spiegazione, ora avete 30 anni e vi aspettate 60, ma se ne avete 60 non ascoltate quelli che dicono che le borse sanno per forza nei prossimi anni. Allora, vediamo un attimo come scegliere le ETF più appropriate. Una domanda forse un po' scomoda, la scelta delle emittenze, uno dovrebbe dire che noi siamo in merito, in modo proprio oggettivo, la scelta delle emittente, come andiamo un po' a farla? Quali sono l'esamino a cui è giusto sottoporre tutti? Allora, innanzitutto guardare l'esperienza e la capacità di gestione, si può vedere da alcuni aspetti, non scientifici, però se una società ha in gestione migliaia di miliardi, significa che l'investitore di tutto il mondo affida un denaro, non affidare sempre un denaro, vuol dire che si trova bene. C'è un tema di costi e di reputation, un tema di abilità nel gestire questo tipo di portafogli. E poi anche vedere se, a livello di performance, diciamo così, se il ETF va bene o no, l'allerenza che ha il venture. Quindi se io voglio, devo investire su questo processo di 500, ed essere più 500, fare più 10 a fine anno, se io sono molto più 10 vuol dire che gestisco bene. Se io faccio anche più 12, ho fatto meglio, però l'obiettivo nera polifero, non è quello di fare tanto quanto al mercato. E quindi non adottare anche più tecnicamente queste capacità gestionate. Tema importante è la liquidità dello strumento. E' chiaro che se su un ETF convergono tanti acquirenti e venditori, l'ETF è per definizione liquido. E' facilmente vendibile. Allora invece ne vede uno al mattino, uno al giorno dopo, e c'è il matter mail. Però l'ETF, la scelta dell'ETF liquido per esempio, come si fa? E' un tema importante sulla liquidità. Allora, la liquidità dell'ETF è almeno pari alla liquidità del sottostante. Cosa significa? Che se io vado a decidere sui 40 titoli, con poco del nazionale d'Italia, pubblico italiano, avrò una liquidità pari a quella dei 40 titoli. Quindi insieme ai 40 titoli pesati nel modo corretto. Perchè sono dei meccanismi che alcuni di questi soggetti istituzionali, che si chiamano marketing di ETFs, si impegnano a garantire questa liquidità. Quindi vado sul mercato, acquistano i titoli e li vengono l'ETF. Se quell'ETF stesso è scambiato molto, libera molte correnti, molti venditori, la liquidità dovrebbe essere addirittura migliorativa rispetto a quelle sottostante. Perchè non devo andare ad operare sul mercato, ma mi scambio queste quote di ETF. Ci sono delle ETF negli stranieri, ma adesso anche in Europa, che sono liquidissimi. Magari anche se investono su vensi emergenti, perchè non si dovrebbero scegliere il mercato, ma si scambiano queste quote di ETF. E quindi ecco, quella liquidità, si guardare volumi a parità di liquidità, però un ETF può anche non scambiare, perchè non ha acquirente venditore anche nell'altra giornata, ma se io ho un istituzionale, quindi un istituzione, quindi un market maker, che mi permette di comprare e vendere nel caso io ne abbia bisogno, ecco, l'ETF non possiamo dire che non sia liquido. Magari non è scambiato, però se io ho sempre dei prezzi in acquisto e prezzi in vendita, l'ETF è liquido. Allora, siamo quasi alle battute conclusive, io spero che siamo in qualche modo riusciti a farvi capire o ad aiutarvi ad approfondire questo aspetto. In passato, per fare certi investimenti, bisognava avere, faccio per dire, 100 milioni di euro per comprarsi migliaia di titoli di azionari, migliaia di titoli azionari, giusto? Adesso si può fare anche con, ripeto, 100 o quei milioni di euro. non solo, chi ha un miliardo di euro in gestione, spesso fa esattamente queste cose, cioè si compra 50 milioni di ETF così, 30 milioni di euro, per cui ormai ci sono anche proprio, come dire, società che lavorano quasi esclusivamente addirittura in ETF, poi sui portafogli di ETF ci sarebbe molto da aggiungere. Tra l'altro il dottor Belingeri spesso ha a che fare con questi istituzionali, che maneggiano cifre, no? a zeri che non ci vivono in norma, noi umani e normali ce li sogniamo, quindi insomma lo ringrazio in particolare per essere stato con noi e con voi, che invece siete piccoli risparmiatori e quindi insomma dovete fare bene i vostri conti. In conclusione, potete comportarvi da gestori istituzionali con piccoli investimenti, sbagliati, no? È giustissimo, il ETF è un po' democratico, quindi investire da 100 milioni o 100 euro si hanno gli stessi costi, che è l'esercizio di pochissimi prodotti. Perfetto. Grazie al dottor Belingeri. Quali argomenti vorresti che fossero affrontati nei prossimi webinar e quali suggerimenti vuoi darci per migliorare il servizio webinar e quanto richiede Banco Costa? Io ringrazio ovviamente dalla disponibilità Banco Costa stessa che permette insomma queste piccole pillole di cultura finanziaria, chiamiamola così se non è troppo a disposizione dei clienti stessi della piattaforma. Buonasera a tutti. Buonasera e grazie a tutti.